Ci sono solo i pisellini Findus. Oggi, provali con lo spezzatino. Findus, il sapore ci rende unici. Il tuo pollice va da qui a qui. Questo schermo più grande va da qui a qui. Ora, questa può essere A, un'incredibile coincidenza o B, una chiara dimostrazione di buonsenso. Mi sa proprio che è buonsenso. Scopri le perle di freschezza di Vernel Blue Oxygen concentrato. Avvolge i tuoi capi col suo intenso profumo che dura a lungo. Prova Vernel, è più fresco che mai, con 100% di perle di freschezza in più. Nuovo Vernel concentrato. Perché pagare le spese del conto corrente? Con ING Direct io non le pago. Prendi parte al cambiamento. Scegli il conto corrente arancio. Per te Zero Canone, Visa Oro e Preglievi Bancomat gratuiti. Un tesoro per le virtù antiossidanti del selenio. Un tesoro che portiamo alla luce per voi. Selenella è garantita da quando nasce fino alla vostra tavola. Selenella, un tesoro di patata. Dal Consorzio Patata Italiana di Qualità. Buona visione da Solo tu o Gioielli e Olio Agri-Day Al prossimo episodio Al prossimo episodio Ugo, ma che fai? Scusa se t'ho svegliata, ma ti devo dire una cosa. Proprio a quest'ora della notte me la devi dire questa cosa? Se non te la dico non riesco a dormire. Io non sono salito sulla gru perché soffro di vertigini. Ecco, bravo, adesso me l'hai detto così possiamo dormire in pace tutti e due. Sì, ma ti voglio anche spiegare il motivo. Non lo voglio sapere. Non ho sempre sofferto di vertigini. È una cosa che è cominciata in un momento preciso. Hai presente il grande albero che sta in giardino? Sì, ti c'impiccherei. Quando ero piccolo venivo a passare le vacanze qui da Zia Clos. Un pomeriggio sono... Un pomeriggio sono...